ok buongiorno ragazzi di nuovo qui io sono la rambla dall'altra parte del monumento vedrete che la c'è la vela dove eravamo prima, quel palazzo la è la vela dove eravamo prima qui c'è la ruota e questa qui è la famosissima rambla, stanno lavorando, c'è tutto il cantieri però facciamo un video lo stesso, usate perché facciamo un video lo stesso nella rambla stamattina c'è già un bel po' di gente e comunque non vi invidio questa è la famosissima rambla, niente di nuovo ormai l'hanno vista tutti però ci sono già almeno due volte qua, questa qui è la terza nella mia vita la rima a Baccellona è la città più bella d'Europa anche perché c'è mare, arte e divertimento potrei andare a vedere anche la Sagra Famiglia ma ci sono già andato due volte anche lì perché oggi mi invito a fare questo video se mi piace per non stare a rifare le cose che ormai si trova dappertutto su internet di solito qua la sera c'è il Mundo, c'è un casino con la Marona se non ricordo male in cima c'è la Hard Rock Cafe se c'è ancora mi viene in mente la canzone di Freddie Mercury Baccellona c'è anche la piazzetta là di dietro non so se l'avete mai vista ma la faccio vedere dai ormai che ci sono la fontana oggi è spenta sta aprendo un mercatino qui ormai da poco parte la giornata anche qua vabbè che dire niente ormai il mio viaggio è quasi alla fine però niente da dire è stato bellissimo fino a qua ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video